E' stato denunciato in stato di libertà un giovane writer nisseno per deturpamento ed imbrattamento di cose altrui. Il 19enne è stato infatti sorpreso dai poliziotti della sezione volante sotto i portici della scuola media statale di Via Rosso di San Secondo, in compagnia di altri quattro ragazzi, intendo ad imbrattare un muro esterno dell'immobile con delle bombolette spray. Gli agenti hanno notato che il giovane aveva ancora le mani sporche di vernice, sequestrate due bombolette spray custodite all'interno dello zaino e appena utilizzate dal giovane writer. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Gela hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne agrigentino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Durante un posto di controllo sulla statale 115 all'altezza di Manfria i carabinieri hanno fermato un'auto sospetta e notando l'atteggiamento nervoso delle conducente hanno deciso di eseguire una perquisizione. L'operazione ha dato esito positivo in quanto occultata sotto un sedile dell'auto è stata trovata dell'Ascish per un peso complessivo di 35 grammi. La droga è stata sequestrata insieme ad un bilancino.